Buon pomeriggio amici della FWPI di YouTube per la nostra Goal Parade, come al solito curata dal nostro Bomber 9 e con la voce che vi accompagnerà è sempre quella di Jay Flauti, soltanto 4 gol ma sono molto significativi e andiamo subito a vederli, numero 4 dei Dark Eagles, Goal 80, un tiro incredibile da fuori su invito del compagno, un assist tremendo e tiro da fuori spettacolare e si va già sul podio, un podio che vede e vedrà poi due volte la stessa squadra Volcano Gaming al terzo posto, WG Panzer, ancora una volta su una giocata, questa volta che parte da calcio di punizione a rendersi protagonista di un tiro al volo, un bellissimo schema su calcio di punizione Medaglia d'argento, Arancia Academy con Troppo Mirko, un gol molto interessato, un calcio di punizione non è sempre facile trovarli ma in questo caso Troppo Mirko ce lo regala con la medaglia d'argento e Volcano Gaming tornano, questa volta per prendersi la medaglia d'oro con Rodrigo Rodrigo che avevamo già visto nella situazione del terzo gol in un assist molto interessato di test adesso invece si rende protagonista di un'azione spettacolare che parte dalla difesa su un cross al centro, ancora con un tiro da fuori incredibile allora mi inviateci i nostri migliori gol a golparade fwpa.com mi raccomando siate numerosi, dalla prossima settimana si ritorna a 5 in classifica seguiteci sui nostri canali facebook, youtube, discord e sul nostro sito www.fwpa.net ragazzi, ciao!